ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video in questo nuovo video vi voglio parlare di cosa succederà quando la quarta generazione finirà allora intanto vi voglio dire che non dovete vederla come una fine ma come un nuovo inizio perché la quinta generazione sarà lo stesso avvingente come la quarta le le protagoniste avranno dei cambiamenti fisici ad esempio cambieranno specie per esempio che ne so ad alcuna toglieranno le ali ad altre le metteranno più o meno così oltretutto anche i loro simboli di bellezza saranno diversi secondo alcune ricerche che ho fatto però non c'è nulla di ufficiale la nuova generazione sarà si chiamerà lo dico in italiano guardiene dell'armonia quindi posso immaginare che forse forse la trama sarà sempre con le nostre protagoniste ma più che altro concentrate forse sull'albero dell'armonia sugli elementi non lo so fatto sta che chi mi conosce lo sa che io gestisco un sito dove ci ho messo tutte le canzoni tutto quanto tutti gli episodi tutto tutto di tutto però dovete sapere una cosa che questo sito non morirà con la fine della quarta generazione perché quando verrà fuori la quinta generazione io metterò le nuove canzoni nuovi episodi comunque sempre su quel sito perché non mi piace considerare che una serie finita perché una serie finita soltanto quando è finita veramente però se cambia di generazione in generazione non puoi dire che finita e poi quest'altra serie che sarà sempre la stessa cosa sarà migliore come disegni magari sarà migliore come trama anche perché se hanno deciso di farlo finire una serie che poi sarebbe la quarta generazione non proprio la serie evidentemente i produttori sanno quello che fanno perché una serie che va così tanto non dovrebbero farla finire se fanno finire una generazione soltanto evidentemente perché hanno in programma un'altra generazione con nuovi episodi che però sarà sempre quello intanto ci dobbiamo concentrare sull'ultima ma a me non piace dire che l'ultima stagione perché se fanno la quinta generazione mi piace considerare il primo episodio della quinta generazione come il primo episodio della decima stagione cioè a me così piace considerarlo comunque intanto ci concentriamo su quello pare che sarà una serie cioè una stagione a vigente dove verranno fuori tutti gli antagonisti proprio quelli tremendi che abbiamo visto che però non sono diventati buoni perché parecchi cattivi nel corso delle stagioni sono cambiati e sono diventati degli angeli quindi alla fine non non è una cosa che diciamo che tutti i cattivi sono rimasti tali ecco comunque volevo dire che io spero spero con tutto il cuore che ci sarà una battaglia epica dove compariranno tutti i cattivi che sono comparsi in cui in cui vengono sconfitti oppure un'altra battaglia sempre epica però in cui i cattivi capiscono che ho sbagliato e succede come è successo con certi cattivi che poi alla fine sono diventati buoni quindi questo è quello che vorrei io cioè una di queste due storie più che altro nei primi due episodi della nona stagione invece gli ultimi due cioè il gran finale mi piacerebbe vedere gli studenti della scuola dell'amicizia e diplomati questo è quello che vorrei io ma non so cosa faranno i produttori la mia opinione personale ve l'ho data ovviamente ma non ci resta che aspettare aprile che guarda caso è pure il mio compleanno quindi essendo il mio compleanno mi hanno voluto fare questo regalo no scherzo però però c'è mi piace diciamo festeggiare il compleanno con l'inizio di una nuova stagione spero che sia bella spero che sia vincente spero che sia la migliore perché deve essere la migliore visto che conclude la quarta generazione e quindi per oggi è tutto ragazzi